Le Marche, ed in particolare la provincia Picena, fanno tutte il tifo per Chiara. E sì, la ragazza numero 72, Chiara Pirocchi, di Castorano, è l'unica bellezza locale che è riuscita ad arrivare alla finalissima di questa sera di Miss Italia. Occhi azzurrissimi, sorriso disarmante e fisico da modella, Chiara ha convinto sia nella serata iniziale che in quella di giovedì, quando ha tenuto test alle varie provocazioni del pubblico in studio. Le sue colleghe, la domanda qual è stato il sacrificio più grande che hai affrontato a Miss Italia, hanno risposto cose come il trucco e la lontananza. Chiara ha sorpreso tutti con un laconico, nella vita i sacrifici sono altri. Tripudio di applausi per lei da tutto il palacotonella, ed apprezzamento da parte del pubblico a casa, che l'ha televotata immediatamente. E a proposito dei televoti a Castel di Lama, nel bar lungo la salaria dove lavora la Pirocchi, il Tommy's Cafè, hanno lanciato un'accattivante promozione, bevuta gratis per chiunque televoti la più bella del Piceno. Facciamo una bevuta per ogni sms che manderanno qui tutti i ragazzi, le abbiamo invitati a partecipare numerosi, metteremo lo schermo fuori per Chiara, perché lo merita veramente. Al di là che è bellissima, lei è proprio bella perché ha degli ideali, ha un cervello, è una ragazza seria, lavora, per me è una figlia ideale. E allora che ci si reghi al Tommy's per ti fare Chiara o che si resti a casa davanti alla TV, il numero da ricordare per votare la Pirocchi è il numero 72.